L'introduzione e discussione dei ragazzi domani, collegandoci poi a stamattina, ieri che non c'ero, dove mi ha detto che ieri era molto interessante, sì appunto dove io non c'ero, dove mi ha detto che era molto interessante, era rigenerare la politica e organizzare la politica. Secondo me gli interventi adesso, quindi che non ricevono domande ma che devono introdurre i dibattiti, i lavori dei ragazzi, dovrebbero appunto declinare questi due elezioni. Io mi aspetto a te due colui, mi aspetto di organizzare la politica per più rigenerarla, per chi ha avuto, fa il ministro della salute, che cosa vuol dire? O ci dai le spasticche oppure hai dimostrato, cioè si può cambiare, che è l'idea del cambiamo e quindi può essere non astratta, ma è una chiesa, come hai sentito ieri dal professore di Noelli, da quell'altro amministratore delegato, dal ragazzo dell'area metodica, dalla doccia che non c'era che l'ho raccontato, oggi un'altra esperienza, cioè quindi da te mi aspetto un'esperienza. Barbara, dov'è? E questa è la prima cosa e il secondo ovviamente, io mi sono disegnato come un'altra, io mi sono disegnato, questo è un amico di generare l'intensità, no? Siccome dopo di aver guardato il spazio, ragazzi, ragazzi, va a lavorare, non è che potete andare a fare un'acqua, poi ci vuole dire, questo è il mio spazio, Grazie.